Tutti pazzi per la piattaforma MEB, MEB, la piattaforma modulare destinata ai veicoli elettrici del gruppo Volkswagen. Eh sì, perché proprio la Volkswagen darà vita all'ID, una hatchback compatta, una specie di Golf però totalmente elettrica. La Seat ha presentato proprio qui a Ginevra la Elborn e Audi non resta mica a guardare. E presenta, ah sorpresa, questa concept car che si chiama Q4 e-tron. Che cos'è? Beh, intanto lo dice il nome, Q4, sta a metà strada tra una Q3 e una Q5. La notizia è che, ce lo dice la piattaforma MEB, sarà completamente elettrica. Un po' a testimoniare la volontà del gruppo Volkswagen e di tutti i marchi del gruppo di virare con forza e con decisione verso l'elettrico con modelli di serie che ormai stanno per arrivare. Si parla di 2020-2021 per vedere questa Q4 e-tron su strada e abbiamo già un po' stressato gli uomini dell'Audi qui sullo stand. L'auto è stata presentata da pochissimi istanti e ci hanno confermato che al 99,9% questa auto, così come la vedete, arriverà di serie su strada. Quindi il design di questo prototipo, guardatelo bene perché sarà sostanzialmente identico a quello di serie. Come è fatta la Q4 e-tron? Ovviamente c'è tantissima gente ma noi cerchiamo di farvela vedere al meglio. Gli interni sono quelli dell'Audi del momento, quindi con schermi completamente digitali, comandi aptici, ma con un design evoluto, ancora più moderno rispetto agli esemplari di serie che ci sono già oggi su strada. Ma non comunque rivoluzionari. La rivoluzione sta nel powertrain perché la piattaforma Meb, sviluppata dal gruppo Volkswagen, viene impiegata per la prima volta da Audi con questa applicazione, con la Q4. Ha una batteria piuttosto capiente perché si parla di accumulatori agli ioni di litio da 82 kWh che dovrebbero permettere un'autonomia dichiarata ciclo VLTP 450 km, dice l'Audi. Secondo me potrebbero comunque essere circa 400 km in condizioni reali, quindi non male. Come si fa a ricaricarle? Beh, con una colonina ad alta potenza, lo ricordo, corrente continua, attenzione perché non ce ne sono ancora molte, soprattutto in Italia, beh, con una colonina così potente, da 125 kW di potenza, si riesce a ripristinare l'80% della ricarica in meno di 30 minuti. E poi, come sapete, le prestazioni dell'elettrico sono sempre molto interessanti perché tutto il picco di coppia viene erogato subito, non appena si sfiora il pedale dell'acceleratore. E qui di coppia ce n'è tanta, 460 Nm, è una potenza massima di 306 CV. Questo vuol dire che la Q4 e-tron è in grado di scattare da 0 a 100 in 6,3 secondi, quindi prestazioni da sportiva stavano cercando di abbattere il nostro operatore Enzo perché vogliono sabotare i video di quattro ruote, ma noi non molliamo perché la e-tron 4, la e-tron, scusate, la Q4 e-tron sta arrivando, ve l'abbiamo fatta vedere, ma voi cosa ne pensate di questa nuova SUV e soprattutto cosa ne pensate di questa svolta elettrica del gruppo Volkswagen? Raccontatemelo nei commenti qui sotto, ciao, alla prossima elettrica!